Carlo Di Fabio, i complimenti sono strameritati per quello che avete fatto, un capolavoro, un miracolo sportivo. Eravate in vacanza un mesetto fa, un mese e mezzo fa, vi ritrovate in a due ma non per mera casualità. Grazie innanzitutto per i complimenti, sicuramente abbiamo approfittato di questo corridoio che si è aperto con la qualifica di Reggio Calabria. Poi siamo stati bravissimi a incunearsi in questa opportunità, bravissimo Stefano, bravissimi giocatori che dalle vacanze sono rientrati in una notte, credo che hanno ricominciato ad allenarsi. Poi questa fortuna l'abbiamo saputa sfruttare, abbiamo battuto le squadre più forti che abbiamo affrontato. senza sottolineare Nardò, Salerno era una squadra fortissima e anche ieri a Montecatini abbiamo battuto Sansevero che era un po' lo spauracchio di tutte. Effettivamente playoff da urlo, sette vittorie e appena due sconfitte. Chi l'avrebbe mai detto la vigilia? Insomma avete sovvertito completamente tutti i pronosti. Ma dall'inizio dell'anno c'è sempre stata molta fiducia nella squadra, nel roster, nella competitività. Io e Stefano l'avevamo anche detto, il direttore generale Mattioli anche, il presidente Donofrio anche. Chiaramente potevamo sembrare presuntuosi, invece poi il campo ci ha dato ragione. Sicuramente una squadra che ha fatto un balzo in avanti dei miglioramenti notevoli dopo il passo negativo Casalingo con Giulianova. Bravi tutti, complimenti a tutti quanti, uno staff meraviglioso, dai fisioterapisti ai dirigenti che sono persone che lavorano nell'ombra ma che poi hanno fatto cose importanti. Ognuno ha messo il proprio mattoncino e ha contribuito a questo risultato sicuramente storico per la società ma molto importante credo anche per Pescara che riporta in Serie A la pallacanestro dopo 30 e passa anni. Quindi che dire, è soltanto una grande gioia. Ecco però insomma dopo l'esclusione di Reggio Calabria che cosa è scattato? Perché c'è stato un salto di qualità a tutti i livelli. Ma sai, tutti hanno fatto, gli addetti lavori hanno fatto il paragone con la Danimarca di del calcio. Evidentemente il gruppo ha dimenticato le paure che lo hanno attragliato per tutta la stagione ci si è ritrovati insomma da resuscitati nel campionato, la condizione atletica era perfetta si è arrivati nelle condizioni migliori programmandolo a questi playoff e quindi che dire, poi sono scattati forse degli automatismi che magari sono anche difficilmente spiegabili però da allora siamo diventati una schiaccia sassi, ripeto non per caso abbiamo battuto Salerno vincendo tre partite di fila contro una squadra indubbiamente attrezzatissima espugnando un campo dove non c'era riuscito nessuno e quindi sicuramente sportivamente abbiamo ricevuto il giusto premio perché è una squadra che lavorava dal 20 di agosto che ha subito anche delle critiche, ha subito anche degli attacchi anche i miei personali, sicuramente non leggeri perché la fiducia e le aspettative erano altissime sembrava una squadra che andava con un motore proprio non al massimo invece bravi loro a tenersi il tutto per il finale Tra l'altro aggiungerei anche Nardò, sì è vero era arrivata all'ottavo posto nel vostro girone però era riuscita nell'impresa di eliminare Caserta, una delle super favorite Ma Nardò, io l'ho sempre consigliato una grande squadra la regola del season l'aveva piazzata all'ottavo posto che non era sicuramente il suo valore con l'eliminazione di Caserta, secondo me è venuta a Pescara pur giocandosi l'eventuale Bella in trasferta è venuta a Pescara convinta di poter fare il suo e di poter passare il turno abbiamo vinto 3-0, sono state tre partite sudatissime è stato importante vincere gara 3 lì perché se no gara 4 sarebbe stata un'impresa da fare poi gara 5 sarebbe stata difficile comunque anche Nardò è stato un manco di prova sicuramente importante soprattutto in quel momento Il giorno dopo com'è Carlo? Io ti do del tuo perché ci conosciamo da una vita insomma abbiamo frequentato lo stesso istituto eravamo piccolini circa 40 anni fa la scuola Media Mazzini quindi me lo posso permettere il giorno dopo com'è? Ma è un day after veramente bello più di soddisfazioni, pieno di gratificazioni chiaramente cominceremo a festeggiare qualcosa però in un paio di giorni bisognerà rimettersi seriamente al lavoro perché le scadenze sono brucianti gli impegni da prendere sono importanti da tutti i punti di vista quindi dovremo riunirci in società e fare le cose fatte per bene la Serie A non è la Serie B noi dobbiamo migliorare in tante cose ogni volta che arriviamo a questi eventi comuni noi ci confrontiamo con le realtà migliori del nostro campionato che hanno forse un'organizzazione più professionale che hanno un numero di addetti ai lavori un numero di persone che ruotano all'interno della loro struttura sicuramente molto superiore al nostro e quindi in un certo modo ci dovremo adeguare dobbiamo arrivare alla partenza di questa due diciamo alla pari con tutti fare una squadra sicuramente che possa donare le stesse soddisfazioni che quest'amatore ha regalato ai suoi tifosi penso negli ultimi 5, 6, 7 anni questa è una notizia molto rassicurante direi per gli appassionati di basket di Pescara non solo, insomma Carlo Di Fabio ce la farà, sarà ancora al timone di questa squadra? ma certo, andare in Serie A non ci si va spesso probabilmente non ci si riesce mai adesso sarebbe un'occasione troppo ghiotta e troppo bella per lasciarsela scappare chiaramente è un percorso pieno di insidie la città deve assolutamente rispondere l'imprenditoria deve assolutamente rispondere le istituzioni dovranno assolutamente rispondere abbiamo bisogno di aiuto non parlo soltanto di aiuto economico ma parlo di aiuto anche proprio lavorativo materiale materiale perché abbiamo bisogno di gente che lavori all'interno della struttura io credo che abbia vinto il basket abbia vinto la città abbiano vinto i tifosi abbiano vinto tante piccole particelle che l'anno prossimo devono confluire in questo progetto anzi rilanciarlo per creare un polo serio quando noi siamo arrivati in Serie B ci siamo arrivati in punta di piedi vorremmo fare lo stesso arrivando in Serie A per strutturarci e mantenere questa società a un livello sicuramente molto importante forse la domanda non è proprio pertinente però insomma la voglio fare lo stesso quanto è costata questa stagione a Carlo Di Fabio in termini economici? si può dire oppure? è una stagione che diciamo sono tanti anni che in termini economici sono stati pesanti per me e per i soci che fanno parte di questa società sicuramente rispetto ai competitor di fascia alta che hanno gravitato in questi anni nel nostro campionato più o meno nella nostra classifica abbiamo speso qualcosa di meno Pescara è una città che magari rispetto a qualcun'altra offre qualcosa in più e quindi siamo stati bravi a strappare dei contratti inferiori ad altri le scelte sono state giuste la prima che ha ripagato è stata quella di Coccio Raiola che il giorno dopo che ha smesso a giocare è passato in panchina e questo è stato un valore aggiunto da tanti punti di vista e mai scelta fu più felice perché credo che anche lui anche fuori dal campo abbia dato quella spinta per lanciare alla società questo traguardo raggiunto bisogna trattenerlo ma io credo che io credo che Stefano abbia guadagnato sul campo la Serie A abbiamo sempre pensato che Pescara fosse il suo trampolino di lancio per poi avere un palcoscenico più adeguato adesso è questo palcoscenico più adeguato ci siamo arrivati ci siamo a Pescara credo che lui abbia voglia di fare ancora un pochino di esperienza di maturare ancora un po' per poi veramente bravo com'è possa raggiungere obiettivi per i quali al momento Pescara non è sicuramente pronta credo che Raiola l'anno prossimo rimanga la guida al timore di questa squadra è il primo tassello credo che non abbiamo mai parlato in questi anni più di 5 minuti per metterci d'accordo credo che sia lo stesso dovremo lavorare lui sarà penso già al lavoro già programmato per allestire con me con noi con il presidente Donofrio e con quello che si occupa del mercato una squadra qualitativamente pronta per dare delle soddisfazioni c'è stata una tappa in questi playoff che ti ha dato personalmente la consapevolezza ci siamo anche noi ce la possiamo fare ma io credo che gara 2 di Salerno abbia dimostrato già gara 1 siamo andati via con qualche recriminazione gara 2 di Salerno abbia dimostrato che la squadra era solida ripeto battere Salerno significa poter battere chiunque siamo andati a Montecatini convinti di poterci giocare le nostre chance probabilmente eravamo in meno accreditati sicuramente eravamo in meno accreditati con Milano pensavamo forse di poter avere qualche chance in più Milano è stata bravissima noi abbiamo fatto una gran partita poi ieri insomma neanche il miglior regista di Hollywood avrebbe potuto far finire così la stagione nel derby con Sansevero che insomma è un po' la nostra rivale storica l'abbiamo affrontato da chiari sfavoriti e poi riportarlo a casa a vincere davanti al nostro al nostro pubblico davanti a tutti i componenti della società insomma è stato veramente il cornamento di un sogno immaginiamo emozioni indescrivibili da parte di Fabio Senior che salutiamo ma sicuramente ha sofferto da casa dalla sua della sua poltrona sicuramente per scaramanzia non è venuto come il suo solito fare in trasferta credo che anche per lui sia sia una bella gioia un amante di questo sport ha fatto tanto ha dato tanto mi ha insegnato tanto e quindi tanta gioia anche per lui l'idea di missioni di Carlo Di Fabio dal punto di vista comunicazione grande stratega perché era secondo me il modo giusto tra l'altro perché poi si arriva a totale di stimolare un po' l'ambiente soprattutto la squadra in quel momento ma è stato anche qualcosa un po' di concertato con gli amici della società con il mio addetto stampa Luciano Rapa che è un'altra persona che ha lavorato diciamo nell'ombra ma che è stato il mio consigliere diciamo perfetto dicendomi quasi sempre di no a tutto quello che proponevo però scherzi a parte anche lui è stato partecipe di questa piccola diciamo strategia da allora non ho parlato più poteva essere positivo poteva essere negativo le mie esternazioni potevano essere potevano essere diventate anche un problema per il gruppo e quindi è stato positivo lasciare la squadra tranquilla poter lavorare con più sanità grandi pressioni non ce l'hanno mai state però probabilmente era arrivato il momento di far fare gruppo e quindi tutto bene oggi si è a analizzare una vittoria quindi è un po' più facile però credo che mai come quest'anno le strategie di mercato le strategie operative siano state premiate concordiamo Carlo effettivamente Luciano Rapa che conosciamo oltre che essere un bravissimo ragazzo è un grande professionista dato quel quid in più se vogliamo sul piano della comunicazione volgendo lo sguardo al prossimo futuro visto che ne hai parlato in questa lunga intervista resteranno i migliori del roster dovremmo vedere con Stefano l'idea credo che non sia quella anzi sia quella contraria allo smantellare la squadra credo che molti di questi ragazzi siano pronti per la Serie A sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista umano quindi questo gruppo ha dimostrato di essere vincente questo staff è assolutamente vincente e quindi credo che la linea comune possa essere proprio quella di mantenere e puntare su questo ripeto questo gruppo che per quello che riguarda la società ha avergato pagine di una storia probabilmente irripetibile grazie ancora a Carlo Di Fabio presidente dell'amatori unibasket meglio dire più che amatori perché questo è sempre un dubbio che ha avuto siamo tornati ad essere amatori quindi amatori l'anno prossimo ci presenteremo come amatori pescati ad maiore ok grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi